Buongiorno Strei, buongiorno dal Salento, Sampdoria Inter 0-0. Ora io posso dire una cosa, per me l'Inter rimane, dopo il Napoli, la squadra più forte del campionato. Dico una bugia dicendo dopo il Napoli, perché si è visto anche nello scontro diretto, che l'Inter non è inferiore al Napoli, però il Napoli, sapete cosa ha di più dell'Inter? Ha il carattere, ha qualcosa che gli rende facili le partite, perché io ho visto tutte le partite del Napoli, le ultime 20 partite le ho viste tutte, e vi posso garantire che quello che balza subito all'occhio è la facilità con cui gioca le partite. Cioè per il Napoli non esiste la differenza fra Cremonese e Roma e Milan e Fiorentina. Vi ho preso tre squadre, una che sta ultima, una che sta sopra e l'altra che sta in mezzo. Per il Napoli esiste il Napoli, cioè Spalletti si concentra sul Napoli e sa che è una squadra forte e sa che alla fine vincerà. I giocatori percepiscono quello che pensa l'allenatore e si vede poi il risultato finale. L'Inter è una squadra che ti dimostra che non è inferiore al Napoli quando gioca contro il Napoli. Infatti l'Inter-Napoli è finita 1-0 e la vittoria ci stava tutta. Però poi gioca contro la Sampdoria, contro le squadrette, chiamiamolo le squadrette perché in confronto a loro sono squadrette. Ma anche con la Cremonese stessa, fece doppietto Lautaro, però la Cremonese fece la sua partita. E ora vogliamo parlare di Lecce e Inter, il Lecce mio. La differenza tra Lecce e Inter non si vide in quella partita. Vi ripeto, come ho detto nell'altro video, che Andanovic fece una super parata su Bistrovic, su punizione. Banda, appena entrato, la prima azione che fece Banda al settantesimo, si fumò proprio. Se li è fumati i due della fascia, Dunfries, adesso non ricordo chi era l'altro. Se li è fumati, se li è aggirati, se li è tolti davanti, fece un tiro che uscì di tanto dalla porta. E poi, a 50 secondi dopo i 7 minuti che l'albitro aveva dato di recupero, vinse la partita su un calcio di punizione e con tap-in di Dunfries. Detto questo, che voglio dire? Voglio dire che il Napoli non solo si merita lo scletto. Meriterebbe di sentirsi dire da tutte queste squadre. E se lo sente dire, anzi non meriterebbe. Merita di dirsi da tutte queste squadre che lo scletto ormai l'ha vinto lui. E magari non se lo sente dire dai dirigenti, se lo sente dire dai tifosi di queste squadre. Però, signori, i tifosi sono l'anima delle squadre. Quindi, se un tifoso dice che il Napoli ormai è campione d'Italia, il Napoli è campione d'Italia. Per me, almeno, il Napoli è campione d'Italia, ma non con merito. Ancora di più, il Napoli è 2-3 gradini sopra tutti. È inutile, 3-0, 3-0, 3-0. Signori, i numeri parlano chiaro. Comunque, un applauso alla Sampdoria, che con tutti i problemi che sta passando, riesce a metterci carattere. E se posso esprimere un mio pensiero ai tifosi della Sampdoria, loro dovrebbero essere soddisfatti. Dovrebbero essere... Cioè, a vedere la propria squadra, che gioca così contro l'Inter, con tutta quella grinta, io sarei soddisfatto. Va bene, altra occasione persa dall'Inter, come l'anno scorso. Certo, l'anno scorso era la squadra più forte e regalò lo scudetto al Milan. E che davvero si ritrovò lo scudetto così, come regalo sotto l'albero di Natale. Ma complimenti davvero alla Sampdoria. E purtroppo questa è un'annata bastarda per loro. E il presidente, il proprietario, non so come lo chiamate voi il viperetto, ha rovinato tanti anni di storia e ve lo dovete tenere per ora. Ciao ragazzi!